Ciao a tutti e benvenuti nel nostro cosiddetto tragico corso di videocucina. Abbiamo deciso, visto il successo dell'ultimo video fatto, abbiamo deciso di fare alcuni remake di alcune tragiche ricette che abbiamo fatto precedentemente, facendo un unico video come abbiamo fatto nell'ultimo. Quindi adesso vi facciamo vedere un remake rifatto di come preparare la cacio e il pepe. Poi naturalmente faremo anche qualche altro nuovo video del tragico corso di videocucina. Rio che ne pensi? È una buona idea, peccato che non possiamo fare il remake per rifare il cervello a babbalucco. Grazie Rio, allora adesso parte il video. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!